Ancora in signe, per il tocco di Gonzalo, Higuain, nono minuto di gioco, si sblocca il Pipita. All'anno in verso plus, Higuain, Higuain, una sentenza, Gonzalo Higuain, Napoli 2, Sampdoria 0. All'altro passaggio difficile, Higuain si gira su Higuain, Higuain, il Pipita. All'altro passaggio sconsiderato, allora Higuain scassa via, supera Higuain, è di rigore, Higuain tutto solo, Higuain, 4 a 0, al Pipita, ancora lui. Higuain ringrazia, escapò gli anticipato, fanno in, ancora il Pipita, la di rigore, sul sinistro, Higuain, 2 a 0, Napoli. Guarda palla Ilicic, Higuain, Higuain dentro l'area, Higuain non sbaglia, il gol è 2 a 1, Gonzalo Higuain, l'ha disposto del Napoli. Hulam, il cross per Higuain, che prende il tempo a Cesar, gira, il Pipita Higuain, 1 a 0, Napoli. Movimento di Higuain, servito Higuain, con il destro, fa tutto il Pipita, 8 gol in campionato, un destro spaventoso. Lodi disturbato dal direttore di gara, pallone dentro, immediato per Higuain, che va alla conclusione col sinistro. Gonzalo Higuain, il vantaggio del Napoli, dopo 8 minuti del secondo tempo. Stai salendo in signa, in signa in area, in signa, la mette in mezzo Higuain! 2 a 0, Napoli! Fa 10 gol in campionato, Gonzalo Higuain! Andare da Higuain, sbuccia Miranda, c'è Cagliecone che spinge per Gonzalo Higuain! 65 secondi! La legge del Pipita! 1 a 0, Napoli! Nota arriva a Biol, scatta Higuain, Higuain è primo sul pallone, Higuain per chiuderla! 2 a 0, il raddoppio del Pipita! Scalarga per in signa a sinistra, ci va ancora da Higuain! E trova la zampata al Pipita, all'ottanta settesimo! Sicca, in posizione di trequartista, Higuain! 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 La doppietta si riapre tutto nel finale! Ancora il guizzo del fuoriclasse! Palla dentro, il colpo di testa di Higuain! Sempre Pipita, solo il Pipita! Quindicesimo il campionato, vive in una bolla, tutta sua! Napoli prova a liberare Higuain, posizione regolare per il Pipita, entra in Higuain, Higuain! Higuain! Non sbaglia mai! Sempre in Pipita Higuain! E fanno 16 in questa Serie A! Higuain! 2 a 0, Napoli! 17 volte in campionato! Pagli con il rimpallo! A favorire Higuain che si infila a Higuain fino in fondo! Higuain! 4 a 0, Napoli! Il poker! Firmato Higuain! Dopo il rimpallo con Versalico, Amsic fino in fondo! Cross in mezzo verso Higuain! Con il piattone! Fa 19 in campionato! Gonzalo e il Pipita! Higuain! Quella di Caglieon! Tiene in campo il pallone, va dietro da Higuain in area di rigore! Higuain! Palla sul sinistro! Lo prova! Gonzalo e Higuain! 3 a 1, Napoli! Insigne! Entra in area di rigore con l'esterno a cercare Higuain di testa! Pareggia subito il Napoli! 1 a 1! E 22 gol! In 22 partite di Gonzalo e Higuain! Poi riesce a far passare per Barreto! Poi il passaggio di Barreto a Higuain! Higuain si invola verso Viviano! Gaggia in porta! E trova il vantaggio del Napoli! Dentro di Giorginio per Higuain che non aggancia Caglieon! La palla dentro! Higuain! E l'orato! Rete! Vantaggio Napoli! Sbagliare parte la rincorsa del Pipita che calcia in porta! Con la potenza giusta per battere Belez e portare in vantaggio il Napoli! Cosa l'orso che quest'anno sta dimostrando eccellente stoccatore! Mentre Higuain! Il gol del pareggio del Napoli! Clamoroso svarione della Fiorentina! Il pareggio di Gonzalo Higuain! Amsic ha la corsa di Goulam! Può mettere in mezzo! Palla per Higuain! La livella subito il Napoli con il gol del Pipita! 1-1 dopo 6 minuti! Parte Higuain con il destro! Il Pipita! Tanto per cambiare! 27 in campionato in 29 partite! C'è Cagliarone probabilmente fuori gioco! Non Higuain! Il pareggio del Napoli! Il pareggio del Napoli al sesto del secondo tempo! Ci pensa Higuain! Hamsic per Higuain! E la palla in rete! Un gol pazzesco di Gonzalo Higuain! 81esimo minuto! 29esimo gol in campionato per Gonzalo Higuain! In area di rigore! Cagliarone con il destro! A cercare in signe poi! Higuain! Gonzalo Higuain! 30 volte! Gonzalo Higuain! Palla sul destro! Fa partire il traversone per Higuain! Dopo 10 minuti torna a segnare il Pipita! Higuain! Higuain allarga il gioco a destra da Cagliaconto con sotto di nuovo per Higuain! Gonzalo Higuain per la gioia del Napoli! Complicato si fila Hamsic! Largo Higuain in area di rigore! Higuain! Higuain! E avanti il Napoli! Al minuto 12! 10.33! Fa girare il pallon in area per Alan che va in percussione! Higuain! 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 Ha un grosso albito! Ha un grosso albito! Ha un grosso albito! Ha infanzito il San Paolo! Higuain! Higuain! così, il trentaseisimo così la tripletta con questa giocata ma questo è un film